Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Foggia, diretto dal professor Lorenzo Lomuzio, è stato inserito nella lista dei 180 dipartimenti italiani ritenuti di eccellenza dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica. Un risultato prestigioso se si tiene conto della forte concorrenza del settore disciplinare e soprattutto considerando che i dipartimenti ammissibili al finanziamento potevano essere solo 13 e il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Foggia si è posizionato quarto in questa speciale graduatoria, superando i dipartimenti che appartengono a prestigiosi e storici atenei italiani ricevendo un finanziamento integrativo di 8 milioni di euro. Questo straordinario risultato permetterà a docenti e studenti di proseguire nelle attività didattiche e scientifiche intraprese negli anni scorsi, con la costruzione di un nuovo centro con aule e laboratori di ricerca. Un traguardo che ci riempie di gioia, ha commentato il professor Lorenzo Lomuzio, che ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti in questi anni. Questo risultato, continua Lomuzio, è stato possibile anche grazie alla stretta collaborazione con l'altro Dipartimento di Area Medica dell'Università di Foggia, diretto dalla professoressa Pia Foschino. L'intesa perfetta e la collaborazione quotidiana tra i due dipartimenti rende possibile un continuo scambio know-how e una necessaria condivisione di obiettivi.